Francesca, grande vittoria con San Martino, la partita forse più emozionante, anzi senza forse qui al Palazzauri? Sì, assolutamente, anche il pubblico è stato molto di aiuto, ci ha dato una carica incredibile, soprattutto negli ultimi due quarti. Ecco, per voi giovani quanto è importante l'aiuto del pubblico, ma vivere anche queste emozioni? Beh, sicuramente molto importante, almeno per me quando sono entrata in campo, avere comunque un minimo di supporto da parte del pubblico è sempre importante. Ecco, sei entrata in campo in alcuni momenti importanti, chiedendo pressione, la risposta è stata positiva e l'emozione di dover giocare in questo campionato si sente sempre meno? Beh, si sente, poi si fa un po' tra virgolette l'abitudine, però come Massimo ci dice, noi non ci dobbiamo far prendere dall'emozione, sennò chiaramente facciamo peggio, quindi spero di aver dato un piccolo contributo in questa vittoria. Due punti, quanto importanti secondo te per la classifica e per il futuro? Beh, molto importanti, soprattutto vista l'avversario che era terza in classifica, sta disputando un ottimo campionato, quindi molto importante. Grazie.